Siamo partiti dalle insegne degli importantissimi partner che hanno consentito la creazione di questo grande progetto di sport e solidarietà a Medolla e cominciamo con la panoramica di quello che è stato fondamentale come struttura sportiva per tutto il territorio del sisma del 2012, quindi già dal settembre del 2013 la stragrande maggioranza delle società sportive di tutto questo territorio potevano fare attività almeno una volta settimana, spesso due, grazie alla presenza di questa importante tenso struttura che come vedete ha un grandissimo partner anche in ecopneos. La struttura è ancora perfettamente funzionante, le ragazzine della pallavolo stanno ricominciando con mascherine, distanziamento a lavorare, qui abbiamo i gruppi di inserimento e di inclusione sociale delle nostre attività di progetto. L'impianto è stato per una volta strategica, le dimensioni, le caratteristiche, il doppio campo, tutto ha consentito a migliaia di cittadini ormai dal 2013 di poter avere uno spazio adotto alla loro passione, alla loro motivazione di fare attività sportive insieme. La scelta che poi abbiamo fatto di avere le pareti completamente apribili, adesso qua ne vedete soltanto una porzione, però la struttura è completamente apribile, quasi nella totalità, tranne il pezzettino che c'è in corrispondenza delle caldaie, è stato un altro degli elementi che ha garantito il potenziamento anche di alcune attività che difficilmente sono compatibili con le attività al chiuso. E tutti questi ragazzi possono finalmente fare attività sportiva, noi sappiamo quanto lo sport, Marco, possa riuscire a risollevare gli animi, a farli sentire come se la vita fosse tornata nella normalità nonostante il dolore. Per noi tutti quanti è stata una grande gioia vederli gioire, vederli giocare, vederli divertirsi. Cosa c'era prima qui? C'erano delle tendopoli per la colpa del terremoto e grazie a questo possiamo giocare qua dentro.